Valuto i vostri disegni, parte 40. Tarò sincero, questo disegno secondo me è quasi perfetto, mi fanno impazzire i dettagli degli occhi, dei capelli, i riflessi sui capelli, giochi di luci, le ombre, è praticamente quasi perfetto. Ma non capisco per quale assurdo motivo alcune lentiggini le fatte molto scure e le posizionate sulle labbra. Vabbè, voto 10.